Allora, il sindaco mi autorizza a dirvi che da qualche minuto è stato raggiunto un accordo tra Cairo e Giovannone e Cairo sarà il nuovo presidente del Torino. In questo momento Cairo è fuori Torino, arriverà a Torino domani e terrà una conferenza stampa insieme al sindaco. Dagli organi di informazione vi faremo sapere a che ora e dove. Grazie! Grazie!